www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Gianna Gianna mi diceva che dedicava questa canzone al marito perché hanno fatto 30 anni di matrimonio e sono tantissimi e canta la loro canzone come si chiama il marito? la canzone del viaggio, ma tutto, il mezzo di ossa Maledetta Primavera Mario, dove è il marito della signora? signor Mario, dov'è? Lontano, lontano ecco, il signore di fronte che ha acceso il cellulare tanti auguri da parte nostra, tanti auguri per voi, Gianna a voi, Gianna a voi, Gianna e si rileva di noi che imbroglio era Maledetta Primavera che resta di un sogno erotico se Un applauso Al risveglio di Gagnato un poema Se ha mani vuote di te Non so più fare Ma è il mio amore Se per errore con gli occhi e mezzo a te Se per innamorarmi ancora Se per innamorarmi ancora Ma è il mio amore Se per innamorarmi ancora Grazie a tutti. Di carezze che non toccano il cuore di me, stella una sola ce n'è, che mi può dare la misura di un amore, se per errore chiudo gli occhi e pensi a me. Tutti insieme! Se per innamorarmi ancora, tornerò, maledetta primavera. Se per innamorarsi ancora, tornerò, maledetta primavera. Che prezzo c'era, maledetta come me. Un applauso a Gianna! Brava Gianna, brava, brava, brava. Lasciami fare come se non fosse amore, ma per il cuore chiudo gli occhi e pensi a me che è morta a te. Ma per innamorarsi ancora un'ora, che prezzo c'era, ma per il cuore chiudo gli occhi e pensi a me che è morta a te. Bravissimo, un altro applauso, torta! Brava Gianna, Mario sei fortunato, Mario sei fortunato ad avere questa bella famiglia. Ecco, una canzone piena di emozioni, Maria, una canzone piena di emozioni, colpi di scena. Sei bianca e tu! Ma che succede? www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete!